Sono Farid, ho 27 anni, sono di Bologna ma ho origini persiane, mi sono trasferito a Milano per studi e poi dopo ho trovato la mia realtà e ho deciso che sarà la città in cui molto probabilmente spenderò la maggior parte della mia vita. Ho trovato il mio habitat, ho trovato delle amicizie bellissime, per me i miei amici sono la famiglia che mi sono scelto qua, mi sento veramente proprio a casa e nonostante non sia la mia città natale. Ho una società però io sono un animatore, sono un animale da villaggio, sono uno che vive delle relazioni interpersonali, il mio vero ruolo è quello di far divertire le persone quindi diciamo che la mia vera natura è quella, ovviamente quello è il mio più grande sogno però nella vita non si sa mai cosa ti può succedere e cosa farò. Mi piace tanto coccolarmi, quando ho dei momenti magari un po' giù e il modo più facile per cercare di tirarmi su un attimo è andare a fare shopping. Gli orologi mi piacciono parecchio, adoro i Rolex e attualmente ne ho tre però ho ancora tanta vita davanti quindi probabilmente aumenteranno. Le auto sono un'altra mia grande passione, ho la possibilità di guidare grazie a mio padre una Mercedes GT veramente pazzesca, ma di questo gliene sono grato.